dai andrei andiamo no andiamo su di qua ma è 5 minuti dai dai che sennò ho partito il cuore andiamo 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 starda spart pum spart papà papà puoi farla anche bassa puoi stare anche basso puoi stare anche giù passa sotto passa via metà qua allora cosa me lo chiedi a fare una domanda andate a darvi i piedi la sicurezza certo hai capito non è che perché non è che Sì, vanno, vanno.